Allora capo, il balsamo per i capelli, come lo chiamiamo? Aria condizionale. Io ho capito che fa tanto, però lo senti che non c'entra una poppola di minchia? No, io non capisco a te, cazzotene, che sei pure pelato. Scrivi che oggi non ho proprio voglia, eh. Ah, guarda, figurati io. Uccello. Bir. Barba. Bir. Orso. Bir. Birra. Bir. Tutto uguale, non hai voglia di fare... Un cazzo di niente, vai avanti. Coriandoli. Mi permetto di suggerire coriandoli, che almeno... Ma questo è un coglione. Cioè, deve solo scrivere, si permette pure di suggerire. Ma era per facilitare, eh. Non ti facilito, io l'ingresso affanculo. Coriandoli, metti i confetti, così magari a carnevale ti arriva un bel sacchetto in testa, così la smetti di cagare il cazzo. Coriandoli si voleva mettere, sto coglione. Che carattere, però. Che carattere. Comando io. Cosa c'è dopo? Scacchi e petto. Metti cesso a tutti e due che mi sono rotti i coglioni. Va, devo andare a far l'aperitivo. Ecco, zio, va che incredibile. Se mi davano Pluto come padre fondatore era meglio.